Cambierà il sistema di raccolta dei rifiuti a San Giovanni Valdarno, è infatti prevista l'estensione a tutti i quartieri dei cassonetti ad accesso controllato. Ne abbiamo parlato con il sindaco Valentina Vadi. Nel corso dei prossimi mesi, fino alla fine dell'anno, si procederà ad una omogenizzazione del sistema della raccolta dei rifiuti sul territorio comunale. Quindi anche due quartieri che attualmente hanno come sistema della raccolta il porta a porta passeranno al cassonetto stradale, quindi i quartieri di Oltrarno e Ponte alle Forche. In entrambi questi quartieri sono già arrivate ai cittadini residenti delle lettere, dove viene spiegato il nuovo sistema della raccolta dei rifiuti. Sono stati fatti già degli incontri per il quartiere Oltrarno, ce ne saranno anche per il quartiere Ponte alle Forche e Porcelli Lo scopo è quello di arrivare ad avere un sistema della raccolta dei rifiuti che sia omogeneo sul territorio comunale, perché questo dà maggiore decoro alla città e poi anche non costituisce una diseconomia come avere più sistemi di raccolta che sono diversi fra di loro. Sempre a partire dal prossimo anno saranno aggiunti a questi interventi altre tipologie di intervento che hanno lo scopo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Procederemo nel corso del 2021 al potenziamento dell'isola ecologica che si trova attualmente a Ponte alle Forche, nel quartiere del Ponte alle Forche Porcellino, per fare in modo che i cittadini siano stimolati a differenziare i rifiuti e a portare rifiuti e differenziarli all'interno dell'isola ecologica, studiando un sistema di premialità legato appunto al conferimento nell'isola ecologica. Contestualmente entro la fine dell'anno si procederà anche a mettere in campo una serie di sistemi per sanzionare chi abbandona i rifiuti e cassonetti e quindi installando appunto i sistemi delle fototrappole. L'assessore all'ambiente Laura Ermini ha parlato degli obiettivi di questo progetto. Gli obiettivi ovviamente sono quelli di aumentare la percentuale della raccolta differenziata e per questo nel corso dei prossimi mesi inizieremo questo progetto di riorganizzazione nella raccolta dei rifiuti. Il progetto si sviluppa fondamentalmente in tre fasi. La prima fase è quella che è già iniziata con la comunicazione ai residenti nel quartiere Oltrarno e Porcellino Ponte alle Forche del passaggio del sistema dalla raccolta porta a porta al conferimento a Cassonetto. Sono arrivate delle comunicazioni ai residenti di tali quartieri nei quali appunto veniva comunicato il passaggio, veniva fornite, veniva fornite due sei card e veniva anche allegata quella che era una piccola brochure dove veniva indicata le modalità di conferimento a quelli che saranno i cassonetti. La spedizione delle sei card è avvenuta affinché questi possano arrivare poi nella fase in cui verranno installati i cassonetti ad accesso controllato a conferire con la tesserina che è collegata a ciascun interstatario dell'utenza Tari. Nella stessa comunicazione venivano previsti una serie di incontri per informare la cittadinanza. Il primo si è già svolto il 24 di ottobre per i residenti di Oltrarno nel quale appunto veniva illustrata la nuova sistema di raccolta. Per quanto riguarda questo punto nel mese di ottobre si procederà praticamente con il posizionamento dei cassonetti nei quartieri che non ne erano forniti. Dopodiché si avvierà quella che invece è la seconda fase ovvero la comunicazione per i residenti dei quartieri dove erano già stati inseriti i cassonetti con l'accesso controllato della calotta dal bidone dell'indifferenziato. Questo perché dopo un lungo monitoraggio abbiamo verificato che la posizione della calotta non è sbagliata come principio ma semplicemente è lo step finale di un processo di educazione alla differenziazione perché soltanto quando il cittadino avrà correttamente imparato a conferire i rifiuti nel bidone del cartone o quello della plastica multimateriale o dell'organico allora diciamo il volume della raccolta indifferenziata il volume dell'indifferenziato prodotto sarà di una dimensione tale da inserire nella calotta. In questo momento la rimozione viene fatta per anche disincentivare diciamo quei comportamenti rispettosi della raccolta differenziata che molto spesso portavano il cittadino diciamo meno virtuoso a conferire nel cassonetto accanto qualora non fosse in grado appunto di inserire il bidone nella calotta. Infine il terzo step che dovrebbe iniziare praticamente nel mese di dicembre è quello della sostituzione di tutti i cassonetti del territorio comunale con quelli ad accesso controllato quindi con quelli che vedono installato praticamente sulla facciata laterale il meccanismo di identificazione della sei card. Tanto punteremo anche sulla formazione, sulla informazione, sull'educazione alla raccolta differenziata nelle scuole ma non soltanto saranno presenti degli informatori ecologici alle postazioni dei cassonetti stradali che insegneranno alle persone come si differenzia in maniera adeguata. In questo senso sarà molto importante la collaborazione che abbiamo attivato unico comune in tutta l'area vasta del lato sud con l'associazione Angeli del Bello San Giovanni Valdarno Progetto Cittadini Attivi che sono appunto dei volontari che formati proprio da sei toscana svolgeranno questa funzione di informatori ecologici. Quindi l'obiettivo che ci proponiamo nell'arco temporale di Diohane è quello di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, avere una città più decorosa e più pulita.